Si dice che si è emersa dal cuore della Terra per sondare l'animo umano. Una pietra rara al punto da liberare i peggiori istinti, una pietra capace di scatenare guerre, le mani di chi l'ha toccata sono ancora sporche di sangue. Allora cosa sei? Un contrabbandiere? Un giornalista. Vuoi rubare il diamante? Quel diamante glielo lascia passare. Se sei ancora vivo è solo perché non hai detto a nessuno dove si trova. Dappelo. Ci dirai dov'è nascosto? Non lo troverà mai, signore. Impediteli di succire. Dov'è il mio figlio? Degli dov'è! Deglielo! La mia famiglia, la mia casa, ho perso tutto! A volte mi chiedo se Dio potrà mai perdonarci per ciò che abbiamo fatto l'uno all'altro. Poi capisco che Dio se n'è andato da qui tanto tempo fa.